Un'autobomba è esplosa nei pressi degli alloggi di alcuni magistrati nella provincia sudorientale turca di Sanliurfa, uccidendo un bimbo di tre anni, oltre a provocare almeno 15 feriti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 20.45 locali nel distretto di Biran Sehir, vicino al confine con la Siria, e ad appena 20 chilometri dalla provincia di Mardin, un territorio dove abitualmente si scontrano le forze di sicurezza turche e membri del partito kurdo dei lavoratori.